Continuiamo a parlare di bellezza. Ci sono molti modi per prendersi cura di sé e sentirsi bene. Un altro modo adesso lo scopriamo assieme ad un'amica che è venuta a trovarci. Livia, testimonial di... Silhouette Secret Shorts. Livia, hai una linea invidiabile, però so che c'è un segreto, vero? Sì, un segreto che voglio condividere con te e con le amiche che ci seguono da casa oggi. Grazie. Eccolo qua. Vedi, non si vedevano. Eh no. Allora, io avevo dei centimetri intorno alla vita e intorno alle gambe. Pochissima voglia di fare sport e anche poco tempo. Ho scoperto Silhouette Secret Shorts che mi ha regalato dei benefici incredibili perché aiuta a mantenere la linea e li posso indossare anche sotto qualsiasi abito. Ma non ti dà fastidio portarli tutto il giorno? No, perché sono molto sottili quindi sono molto comodi. Nessuno se ne accorge e funziona. Un bel ritrovati a tutti a questa nuova puntata di Le Nostre Regioni. Il programma è interamente dedicato al territorio e alle mille meraviglie del nostro paese. Ogni puntata significa vivere insieme un viaggio emozionale fra le bellezze dei paesaggi e gli splendori artistici e architettonici delle nostre città. Significa rivivere la nostra millenaria storia e la cultura che tutto il mondo ci invidia. Un percorso che ci porterà anche a riscoprire le tradizioni dei nostri paesi e ad apprezzare le tipicità enogastronomiche che ogni zona offre. Unicità che fanno sì che i nostri territori siano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Nella scorsa puntata il nostro viaggio ha toccato le coste delle meravigliose Cinque Terre. Ma adesso puntiamo decisamente a nord, in Valle d'Aosta e più precisamente a Breuil Cervigna, esclusiva località della Valtournensh. Un luogo meraviglioso che richiama ogni anno decine di migliaia di turisti e sciatori da tutto il mondo. Panorami mozzafiato, sci estivo, sport estremi, mondanità, escursioni, relax e molto altro. Allora andiamo insieme a riscoprire e a vivere le mille emozioni offerte da Cervigna. Ed è quello che oggi vi proponiamo, il dispositivo più efficace al mondo per l'abbattimento dei gas di scarico e risparmio di carburante che ci sia. Ma sentiamo un altro ospite a parlarci della sua esperienza con Supertech. Nell'ambito dello studio di nuove tecnologie. E queste testimonianze sono interamente scaricabili dal nostro sito e sono ovviamente una sintesi dei documenti originali che vengono custoditi dalla direzione generale. Chiamate subito perché Supertech non lo trovate nei negozi specializzati, ma potete averlo solo telefonando al numero che vedete.